Riguardo alle parate, se voi mettete in questa postura e sfruttiamo tutto l'avambraccio e teniamo il tronco un po' flesso, così che, come un po' la coperta, quando è inverno, se avete una coperta corta, cioè mi arrivano colpi qui e colpi qui, è chiaro che la coperta è un po' corta. Allora, quello che io farò sono due cose. Uno, mi rannicchio nella mia coperta, cioè chiudo il tronco, ho una coperta corta, mi chiudo e la coperta sarà sufficiente, quindi starò in una guardia un po' così, chiuso. Secondo, posso anche un poco permettermi di tirare su e tirare giù. Capite che con questa postura mi sarà facile, con micro movimenti, coprire tutta l'area che può essere colpita. Cosa possiamo fare? Ok, mi arriva un gancio? Farò giusto questo gesto, è un gesto breve. Mi arriva un gancio di là? Farò questo. Mi arriva un montante? Mi arriva un diretto destro? Mi arriva un diretto sinistro? Capite che questa postura vi permette con piccoli movimenti di essere sempre protetti. Quindi noi ci metteremo con uno scudo più grande possibile, rannicchiati, e al centro. Cioè le braccia non saranno già pronte per i ganci, già pronti per i montanti, già pronti per il diretto destro e il sinistro, ma saranno al centro rispetto a tutti questi colpi. E il centro è questo. Piccolissimi gesti e ho parato tutto quanto. Mi sarà un po' più facile. Fai il gesto della parata e rimani ferma lì. Ok? Ok? Allora, diretto destro. Ok, ferma lì. Allora, guarda sempre avanti. Allora, non richiamare questo, perché? Rimani ferma lì. Mi sembra che è l'occhio scoperto. Ok? Tu stai in guardia, diretto destro è questo. Capisci che se stai qui e fai questo gesto, non solo col braccio, non riusciresti, ti daresti i pugni da sola, ma con tutto il corpo e vai avanti, non con la mano, ma con il gomito. Ok? Bam! E vai a bloccare. Ok? Se colpisce un po' più a sinistra, che può succedere, tu sei sempre parata. Quindi non questo qui. Quindi stai qui. Ecco. Se colpisce un po' più alla destra, va via. Se colpisce qui, l'hai bloccato. Bam! Ok? Ok? D'accordo? Non così. Perfetto. Ora arriva un diretto sinistro. Che fai? Contrasti col gomito. Cioè tu porti avanti il braccio, devi dare una botta a questo scudo. Ok? Quindi sei qui. Io ora mi sono messo mancino come lei, così mi vede meglio. Lei è mancina. Ok? Sono qui e porto il gomito avanti. D'accordo? Ok? Porto questo, cosicché se il mio pugno è un po' più a sinistra, va via. Se è proprio qui, viene intercettato. Se è sopra, prendo la fronte, mi rompo una mano. Se è sotto, prendo il gomito. Gancio destro. Ok? Ok? Attenzione a spostarsi. Perché mi devo levare? Se ti sposti, ti arriva il colpo di far cadere. Ok? Sei in guardia, dai il gancio, alzi il braccio. Ma non ti conviene girare e dare le spalle. Ok? Avevi questa guardia, è arrivato il colpo, alzi. Ma non ti giri. Gancio sinistro. Ok? Così ti arriva il gancio. Ok? Qua esatto. Ok? Vediamo qua davanti. Così. L'obiettivo di questo esercizio è alzare il ritmo cardiaco. Dobbiamo stancarci, più possibile. Non dobbiamo amministrare le risorse. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni. E sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me. Unisciti ai miei studenti. Clicca il link che trovi nei commenti. Grazie a tutti.